Buongiorno, oggi è lunedì 3 agosto, rassegna stampa di video 33, nuovo appuntamento con la nostra informazione cielo sereno su gran parte del territorio alto tesino. Attenzione, già per la giornata di oggi è previsto l'arrivo del grande caldo, sarà così anche nei prossimi giorni. Punte di 35-36 gradi nelle ore centrali, Mohamed Almasmoudi è in regia, questa mattina allora con il suo aiuto diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola. L'Alto Adige dedica la sua prima pagina ai dettagli, i dettagli di uno dei progetti proposti dal Presidente Compatcher, ecco come toglierò l'Imi, la strategia del Presidente per eliminare la tassa. Cagnotto e Verzotto, Bolzano è bronzo mondiale, sappiamo terza medaglia per Tania Cagnotto ai mondiali di Russia e prima medaglia per Michael Verzotto in presa nel sincro misto. Buona la prima, l'Alto Adige Spugna Matera, parliamo di calcio e per la precisione di Coppa Italia. La colonna cura del quotidiano Dolomiten, non c'è interesse per il TFR in busta paga, questo è il bilancio dei primi mesi della novità che ha interessato anche la provincia di Bolzano. Grande successo per l'edizione 2015 del campionato dei falciatori d'erba, andato in scena come da tradizione a Sarentino. Però il migliore si è confermato, ancora una volta Davide Tierler di Casterrotto, anche il dormito di Enrico Spazio in apertura all'ottima prestazione di Tania Cagnotto e Michael Verzotto ai campionati mondiali di Kazan. La cronaca nazionale e internazionale con il Corriere della Sera, Renzi aiuti al Sud, ma basta pianistei, un piano per sbloccare 12 miliardi, tensione all'interno del Partito Democratico, il Premier presente a Tokyo, Serracchiani e Boschi accusano la minoranza. Linea dura sulle discoteche, sigilli alla discoteca famosa, discoteca della Riviera Cucuricò, il Viminale dice ci vogliono più controlli, se non sono sicure le chiudiamo il provvedimento. Dopo la morte di tre giovani, il questore dice è una centrale della droga e della pornografia. Per quanto riguarda lo sport, Milan c'è la firma, soldi per il mercato, svolta societaria, Berlusconi sarà presidente, Mister B sarà il suo vice. C'è anche il Corriere della Sera di Caspazio al successo, ancora una volta di Tania Cagnotto, successo anche nella staffetta maschile con Magnini, il capitano che ha portato a medaglia la sua squadra come ultimo staffettista. Ancora la cronaca, la vita low cost nel Vaticano di Bergoglio, l'austerità del Papa cambia la curia, niente auto blu, ristoranti di lusso e vesti costose. Andiamo a vedere la cronaca a cura del Sole 24 Ore per notizia a carattere economico, casa, pensioni e risparmio. Arriva la guida per le famiglie, si parte con le tasse sul mattone e con le regole per l'assemblea di condominio. L'estate insieme al Sole 24 Ore, da oggi fino alla fine del mese, ogni giorno due pagine su novità normative, opportunità e consigli. E allora torniamo alla cronaca dalla provincia di Bolzano con il quotidiano Alto Adige, il dettaglio della prima pagina. Oltre alle precisazioni del Presidente Compaccio riguardo la volontà di togliere l'IMI, ci si occupa anche della battaglia. Battaglia tra cinema, multisala e Twenti, film club e cineplex, pronti a difendersi dal progetto della multisala che dovrebbe essere realizzata al Twenti. Ancora, cura in cella per il killer della prostituta Kevin Montolli, dopo la condanna definitiva a 12 anni, ha bisogno di cure psichiatriche, sarà seguito in carcere. Cagnotto e Verzotto, Bolzano è bronzo mondiale, l'abbiamo visto, e poi buona la prima anche questa notizia, vedremo tra poco nel dettaglio. E un'impresa, un'impresa tutta da scoprire, vi racconteremo tra qualche istante l'impresa proprio di Giuliano Calore, 77 anni, è sceso dal passo dello Stelvio in sella di una bicicletta senza manubrio, senza freni e per giunta di notte. Un violino ai piedi del Violet, oggi alle 13 il concerto del virtuoso austriaco Thomas Zettmeier, i suoni delle Dolomiti, ancora una volta protagonisti. Andiamo allora nel dettaglio, nel dettaglio della cronaca, la notizia d'apertura, con Patcher, così toglierò l'Imi. Il Presidente interviene, va migliorata l'esenzione sulla prima casa, tensione con i comuni sulla verifica dei conti. Il Presidente dice, non stiamo parlando di tagli, abbiamo chiesto un'analisi sui 45 milioni di rimborsi dell'anno scorso. I finanziamenti, Partito Democratico in crisi economica, oggi la decisione sul personale, al vaglio l'ipotesi di cassa integrazione. Il tesoriere dice, il costo del lavoro assorbe tutto il budget. Ancora con la cronaca, non possiamo non dedicare spazio alla terza medaglia di Tania Cagnotto, Cagnotto Verzotto, rima da medaglia. Il duo Made in Bolzano conquista il bronzo nel sincro. Michael dice, sto vivendo emozioni indescrivibili, l'entusiasmo e la consapevolezza, attenzione tenuta alta fino alla fine. Dopo tanti anni è arrivata questa medaglia, la dedico a chi mi ha aiutato. Devo proprio ringraziare Giorgio Cagnotto che mi allena da 20 anni e ha sempre creduto in me, anche nei momenti più difficili con i due tuffi obbligatori iniziali sono andati subito al comando, l'analisi dei tecnici. E per quanto riguarda ancora lo sport, la notizia che abbiamo visto poco fa in apertura, Calore doma lo Stelvio in discesa a 77 anni con la bici senza freni. L'impresa è compiuta, il recordman nella notte è sceso dai 48 tornanti del passo. È stato terribile, dice, ma è stato comunque bellissimo. Lasciamo la cronaca in lingua italiana, passiamo alla cronaca in lingua italiana con il quotidiano Dolomiten. Abbiamo visto in apertura, ci si occupa del poco successo, dell'opportunità di avere parte del TFR in Bustapaga, poco successo in provincia di Bolzano, abbiamo visto il campionato provinciale dei falciatori d'erba e l'ottimo risultato di Tania Cagnotto ai mondiali, ma anche l'ottimo risultato di Laura Letrari nel nuoto sempre ai mondiali in Kazan. Ed ecco allora la notizia di apertura. La notizia di apertura con la possibilità di avere parte del TFR in Bustapaga, sono pochissimi i dipendenti in provincia di Bolzano che sfruttano questa opportunità. Ancora con la cronaca ieri e l'altro ieri, giornata da Bollino Nero sull'autostrada del Brennero. Attenzione, non è finita, ci sono gli altri fine settimana come ad esempio domenica 9 agosto, il 15 e il 16 agosto, il 23 agosto e il 30 agosto. Giornate molto molto critiche, ma anche i venerdì e sabati precedenti. Dalla prima pagina le fotografie per raccontare il successo della giornata di ieri a Salentino con i falciatori d'erba impegnati in una gara tanto singolare quanto affascinante. Ancora una volta si è aggiudicato il titolo, il vincitore dell'anno scorso. E comunque 8 donne e 32 uomini si sono dati battaglia sui prati della Val Salentino. Insieme per la cronaca, grande festa in Val Badia per i 30 anni della Coppa del Mondo. È stata presentata la statua ufficiale per celebrare questo importante appuntamento. Ancora con la cronaca successo oltre ai più rose aspettative in Val Martello per l'inaugurazione della parete di Arampicata lungo la diga della Val Martello. Una parete dedicata sia agli ospiti sia ai residenti e agli amanti di questo affascinante sport. Sieme per la cronaca il caldo. Il caldo che cambia anche le vie di ascesa all'Hortless. Guide alpine e soccorso alpino impegnati per garantire la sicurezza di alcuni particolari passaggi. La cronaca ci porta in Russia con il successo di Tania Cagnotto e Michael Verzotto nel sincro misto ai mondiali di nuoto in Kazan. E anche Laura Letrari è più che soddisfatta dopo la sua prestazione. È tutto, io vi ringrazio. Come sempre qualche istante di pausa e poi torniamo in studio per andare a vedere che tempo farà nelle prossime ore. Sanfter Il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857 Specca Alto Adige Affettato Sanfter Prosciutto Cotto Praga Sanfter Qualità e gusto Sanfter Saper fare, saper vivere Con le webcam che vi proponiamo oggi rimaniamo nella zona di Merano questa è un'immagine sulla Conca che ospita proprio la città del Passirio alcuni minuti dopo le 6 e 10 come detto rimaniamo in zona e andiamo a vedere quello che accade all'imbocco all'imbocco della Val Venostra siamo come sempre alle porte dell'abitato di Foresta e diamo un'occhiata anche all'immagine che ci permette di volgere lo sguardo verso Merano la collaborazione con gli esperti meteo della provincia di Bolzano anche oggi ci consente di dare un'occhiata alle immagini che arrivano in diretta dal satellite vedete assenza di copertura nuvolosa solo qualche foschia innocua la grafica adesso per capire quello che ci attende nelle prime ore di questa giornata poi nel corso del pomeriggio alternanza di sole e nuvole soprattutto di prima mattina e poi spazio al cielo sereno vedete temperature massime intorno ai 34-35 gradi sarà così per gran parte di questa settimana gli aggiornamenti sono come sempre a vostra disposizione su Facebook al tuo Adige Meteo e all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online anche oggi alcuni appuntamenti da non perdere per i prossimi giorni il 4 di agosto palcoscenico a Lago a Caldaro e sempre il 4 di agosto martedì lunghi a Merano il 5 di agosto i Meinfeld in concerto a Degna nell'ambito del Tour Forst 1857 a Petour io vi ricordo il nostro sito internet www.video33.it potete rivedere questa edizione della nostra rassegna stampa le varie edizioni dei nostri telegiornali all'interno della Mediateca Online i principali contributi firmati e andati in onda nelle ultime ore come sempre aggiornamenti meteo in tempo reale potete seguirci in streaming e avete a vostra disposizione anche una rassegna stampa in breve www.goinfo.it 24 ore su 24 7 giorni su 7 per rimanere informati e aggiornati riguardo a tutto quello che accade in provincia di Bolzano alle ore 13 e alle ore 19 non perdetevi le nuove edizioni dei nostri telegiornali come sempre a questo punto io vi ringrazio per aver scelto ancora una volta l'informazione di Video 33 vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon inizio settimana Ariete concentrati sulle vacanze ormai prossime probabilmente sarà la tua ultima settimana di lavoro prima delle ferie oggi sii superiore a qualsiasi cosa Toro oggi forse dovrai risolvere alcune questioni di famiglia Urano dalla tua ti darà grande razionalità Gemelli corri sempre dietro a mille impegni e gli affetti sono sempre per te il centro di tutto così però ti sei dimenticato di te e oggi senti che tutto sta per crollarti addosso Cancro volente o nolente oggi dovrai fare i conti con le tue forze fisiche il caldo e la stanchezza oggi avrai tempo per dare a tutto la giusta priorità Leone Venere la fa da padrone e pone le basi per un agosto caliente l'estate sta per entrare nel vivo Vergine il caldo, il sudore, la stanchezza di mesi di lavoro non stop non manderanno in tilt la tua capacità di essere gentile sempre Bilancia Urano ti porta a particolare senso dell'iniziativa deciderai di liberarti di frasi fatte e concetti troppo legati al bene e male assoluto e per una volta ti lascerai andare Scorpione grande razionalità ti sveglierai pensieroso qualche piccolo screzio in famiglia non ti farà star sereno Sagittario il lavoro c'è l'amore anche pure Urano ti rende instabile dubbioso lunatico oggi sarai concentrato al massimo sui risultati e gli obiettivi preferi Capricorno c'è qualcosa che non ti fa star sereno più un presentimento che un fatto reale non puoi però vivere con queste paure Acquario giornata splendida per te che di energie ne hai da vendere porta a casa un altro successo e parti per le ferie più sereno che mai Pesci non ti fermi mai neanche a fine luglio ami il tuo lavoro e i tuoi impegni ti fanno sentire vivo C'è qualcosa che non ti fanno sentire vivo Acavoli Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.